Nuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valencia nell'area di Filandari che negli ultimi tempi viene tenuta sotto stretta osservazione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti di nove presunti esponenti di vertice della famiglia d'Indrangheta dei Soriano di Arizona Pizzindi, frazioni rurali di Filandari. Si tratta di una prosecuzione dell'operazione a suo tempo denominata Nemea condotta recentemente dagli stessi carabinieri coordinati dal procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Nicola Gratteri che già aveva azzerato i vertici della struttura con l'arresto anche di vari sodali affiliati all'Andrina di Pizzinni ritenuta responsabile di una vera e propria strategia del terrore per riacquisire il controllo criminale proprio della zona di Filandari. Queste nuove ordinanze sono state emesse dopo che è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari per tutti i soggetti già destinatari di fermo. Il GIP di Catanzaro ha emesso inoltre un'ulteriore misura cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Soriano, fratello di Leone, accusato a sua volta di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso con gli altri.